Sorprese di trovare Dixan in casa Moser? Ecco, due bimbi anche noi avevano problemi di sporto, io però ho scoperto Dixan. Ti ricordi Chica con la tua maglia rosa? Dai, così sei campione anche tu. Chica, quante macchie sulla maglia rosa! Sì, erano patacche grosse come medaglie. Ma guardi qui che pulito con Dixan e su tutto il bucato. Eh sì, per me Dixan è proprio campione del plico. Anche per la signora Moser niente la va meglio del Dixan.